E' stato arrestato il napoletano 37enne, disoccupato e volto ampiamente noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di reati a suo carico che si è reso protagonista di diversi furti in serie con scasso durante la notte scorsa a Marotta. Una di queste razzie è stata compiuta ai danni dell'istituto comprensivo Fadi Bruno, dove il 37enne, dopo aver forzato una porta sul retro della comunicante scuola elementare Fantini, ha messo a suo quadro aule, locali della mensa, magazzini alla ricerca di refurtiva e scassinando anche i distributori automatici di vevande per i loro pochi spiccioli e tentando anche di forzare l'armadio blindato dove vengono custoditi i materiali didattici informatici della scuola. E' una pagina tristissima considerando anche la penuria economica delle scuole, quindi la difficoltà poi eventualmente a ricomprare la merce trafugata. Palmari poi che sono stati trovati in suo possesso e che quindi lo hanno inchiodato come l'autore del furto, una volta che i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Fano lo hanno pizzicato con le mani nel sacco in uno dei suoi colpi in serie nella nottata, in una gelateria dove con lo stesso metodo usato per la scuola, ovvero un piede di porco verniciato di rosso che ha lasciato tra l'altro tracce ovunque sulle porte, ha forzato la vetrina d'ingresso e dove prima dell'arrivo della gazzella dei carabinieri aveva già fatto razzia del fondo cassa ed era ancora alla ricerca di altri oggetti da raffare. Ma nella nottata il napoletano aveva fatto visita anche ad un altro esercizio commerciale, sempre a Marotta, alla ricerca di refurtiva, un'agenzia viaggi dove però una volta all'interno aveva scoperto che a parte i depliant delle vacanze non c'era nulla da mettere nel sacco e si era diretto quindi verso gli altri suoi obiettivi. Il 30 settembre, una volta arrestato dai carabinieri, ha passato la nottata nelle celle di sicurezza e questa mattina è stato portato davanti al giudice del Tribunale di Pesaro che oltre a convalidarne l'arresto per direttissima, su richiesta del PM Nardone della Procura della Repubblica ha accolto il patteggiamento e gli è stata inflitta una pena di un anno e otto mesi di reclusione ed il divieto di dimora nella provincia di Pesaro e Urbino. Il questore lo ha rimpatriato a Napoli con un foglio di via obbligatorio vietandogli di far ritorno a Marotta per i prossimi tre anni.